Allora io vi faccio un'analisi tecnica di questo match e ho sentito tutti dire è ingiusto, è ingiusto, no, io credo che noi dobbiamo essere sportivi a riconoscere le cose come stanno. Questo match l'ha vinto meritatamente la Dada Polacco, il problema di Andrea questa sera è stata la pressione, era la prima volta che combatteva in casa per un titolo e ha pagato la pressione, ma non è un problema perché è un allenamento per la testa, noi riproveremo ancora, non è certo questo che ci fa fermare qui. Ha vinto ai punti e ha tolto lo scettro per il titolo italiano della categoria 75 kg il nuovo campione italiano professionisti e il pescarese Francesco Di Giacomo che ha sconfitto il detentore Alessandro Disnan, uno spettacolo incredibile, il tuo match è stato fantastico, la cornice di pubblico eccezionale. Beh sì, la cornice di pubblico meritava un bello spettacolo, spero di essere stato all'altezza, l'organizzazione è stata come al solito di Riccardo Bergamini eccelsa, sono contento.